Benvenuti dalla redazione Diego Internazionale, oggi siamo con il professore Alessandro Politi, buongiorno professore, uno dei massimi esperti di terrorismo e sicurezza internazionale, nonché direttore della NATO Defense College Foundation di Roma. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito a rispondere ad alcune domande che possano aiutarci a fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo in Europa in merito agli ultimi avvenimenti legati proprio agli ultimi attentati in Francia e in Austria, anzi a proposito le chiedo già di cominciare, se è possibile, a cercare di comprendere quali sono le analogie e le differenze fra quello che è successo in Francia e quello che è successo in Austria a Vienna in pochissimi giorni. Innanzitutto dobbiamo ringraziare il cielo, la buona sorte e tanti altri fattori che le vittime, con tutto il dolore naturalmente per le persone, sono poche. dobbiamo sempre ricordarci che il peggiore attentato in Europa è stato in Spagna, quello è stato il nostro 11 settembre europeo, non come hanno detto altri capi di Stato, sono 200 morti in una mattinata. Attentati dinamitardi su treni come noi ne abbiamo vissuti durante la guerra fredda in Italia, il decennio delle bombe fasciste erano sui treni, tutta altra roba. Quindi siamo già fortunati da questo punto di vista. Poi alcuni attentati non sono esattamente riconducibili a una matrice precisa. Uno è finalmente stato rivendicato in modo aperto dallo Stato islamico. E a quanto pare, quello di Vienna, gli altri, sì, insomma, matrice possibile islamista ma nessuna rivendicazione. Ed è abbastanza interessante perché in genere, almeno per un certo periodo, le grandi organizzazioni takfir, quindi jihadiste, come lo Stato islamico e al-Qaeda, rivendicavano anche dopo, come dire, tanto sono vicini a noi. Si direbbe da noi in Italia sono attentatori d'area. In realtà molti di questi non sono affatto affiliati in modo formale, ma l'attentatore di Vienna invece no. Ci sono dei video dove probabilmente è lui che ha proprio un atto di giuramento formale di fedeltà allo Stato islamico. Questo sventurato che è tra le cinque vittime, lui e altri quattro innocenti, era di doppia nazionalità austro-macedone, albanofono. Ora, chiunque sia stato nei Balcani sa che c'è tutto un giro, una rete di persone che sono reclutate, non sempre direttamente da organizzazioni terroristiche, ma da organizzazioni integraliste e estremiste. Il che non significa che siano automaticamente un'anticamera, ma sappiamo benissimo che c'è una serie di paesi che investono pesantemente nell'islamizzazione non forzata, ma sicuramente indotta, in molti paesi balcanici che non lo erano. Tutte le popolazioni albanofone erano originariamente cristiane, sono diventate musulmane per convenienza sotto l'impero ottomano, ma era una fede abbastanza all'acqua di rose come molti cattolici di una volta nel meridione. Sì, va bene d'accordo, ma nulla lì. Adesso perché c'è tanta miseria nel Kosovo, per esempio, ce n'è davvero forte, ci sono villaggi che hanno il 60 e il 100% di disoccupati, arrivano questi signori riccamente finanziati da alcuni precisi stati medio orientali, che aprono delle orrende moschee che nulla hanno a che fare con la tradizione delle moschee dell'architettura ottomana e hanno il proprio punto a rifare, non so, ti fai crescere la barba, al mese ti prendi 50 euro, porti ogni venerdì il figlio alla moschea un altro lipo, fai velare tua moglie o no, uno si fa come minimo mezzo stipendio. Con un pacchetto di 150 euro, io a suo tempo sono stato consigliere politico della K4 in Kosovo, c'era questo tariffario. E poi c'è gente che semplicemente ha bisogno di trovare un appiglio di fede, di riflessione, di conforto in tempi estremamente difficili, insomma, non sono difficili, ci sono per noi. Quindi questo è il caso di Vienne, l'unico punto rivendicato, questo signore peraltro era stato già arrestato una volta perché ha tentato di fare questi, chiamiamoli viaggi della speranza eroica o in Siria o in Iraq, ha scontato una pena, la pena è stata accorciata perché si era deradicalizzato e a quanto pare lui ha eluso il sistema perché evidentemente ha trovato il mezzo di convincere la gente a cambiare vita, l'addestramento di questa gente include anche la possibilità di mentire in modo da un po' come quello che succede nelle azioni antimafia qui in Italia, insomma non tutti quelli che sono collaboratori hanno veramente rinunciato al vecchio sistema di vita, molto semplice. La Francia è un altro caso, anche perché l'Austria è un caso con pochi attentati terroristici relativamente a una storia molto, diciamo, chiaro ci sono stati grandi attentati degli anni 80 con i palestinesi, c'è stato il sequestro dei rappresentanti OPEC da parte dello sciacallo, insomma cose eclatanti ci sono state, ma l'ultimo attentato era degli anni 90, era un attentato razzistico anti-Rom con quattro morti, dopodiché molto poco per non dire niente, quindi l'Austria è rimasta colpita, però Vienna è al centro di una scena di elementi radicali che insomma sono vicini a questo tipo di grandi organizzazioni jihadiste. La Francia è un problema completamente diverso, bisogna subito dire che la Francia non ha ancora risolto i problemi, gli strasci che diciamo le conseguenze delle due guerre d'Algeria, la guerra di decolonizzazione, quella che noi chiamo la seconda guerra d'Algeria, che è quella civile quando gli islamisti avevano vinto alle urne e i militari hanno deciso che no, non si doveva fare. 200 mila morti, violenze inaudite, torture a go go, alla fine le organizzazioni terroristiche sono state non sconfitte ma ricacciate nel profondo Sahel, dove guarda caso siamo presenti noi con i francesi, con altri e la guerra la stiamo per ora perdendo. Una situazione estremamente fragile, spazi immensi. In Francia anche lì non è che c'è questa, l'effetto ottico è di vedere tanti attentati, ma se uno va a misurarli con quelli degli altri paesi, i francesi costituiscono una frazione piuttosto piccola, dolorosa ma piccola. È chiaro che tra le conseguenze delle guerre d'Algeria ci sono degli immigrati che non hanno mai avuto una speranza di mobilità sociale. Quindi De Bagnier è il caso classico e questo significa che c'è una quantità di persone che per i motivi più diversi si lasciano attirare da questo tipo di fede estrema e quindi poi verso il terrorismo, sono sempre passi distinte, perché non hanno altra prospettiva. Cioè sono troppi i servizi di sicurezza interna, non ce la fanno stare dietro a tutti. Ogni volta bisogna valutare la pericolosità di una persona e questa valutazione non è una valutazione al 100%, è un po' come il test Covid, ti dice se hai avuto pezzi di virus, ma non ti dice se veramente sei infettivo o no. Quindi bisogna capire che quando accadono questi fatti è inutile farsi prendere da angosce che sono completamente fuori posto. Capisco che è doloroso, ma ho capito, ma questa è una responsabilità precisa non solo dei media, ma anche di certe classi politiche che su questa faccenda cavalcano spesso sotto la spinta di destre estreme. Voglio dire, i terroristi sanno benissimo che non cambiano nulla in Francia. Ma finché ci sono reazioni pavloviane, allora chi si fa pecora il lupo lo mangia. Questo è il punto. Invece no, continuiamo con… ricordiamoci che in Italia di morti per terrorismo islamista finora sono dal 2002, 99-2002, due casi, nuove brigate rosse, zero. Morti di mafia, tu guarda, non fanno notizie. Ma che strano, no? Quindi ecco che c'è una responsabilità politica dell'elite e quindi anche dei vari direttori di giornali che non mettono le cose nel contesto. Assolutamente d'accordo, professore, ma in base proprio a quest'ultimo discorso, allora è anche in relazione alla possibilità di prevenire, dato che è molto difficile perché appunto, per esempio in Francia, come ha detto lei, sono moltissimi i casi per cui uno si fa trascinare da questa fede estrema e poi dopo, diciamo, ha la tendenza a compiere questi atti. I paesi europei, che cosa stanno facendo secondo? Come giudica il lavoro dei paesi europei in base proprio alla prevenzione del terrorismo jihadista? Guardi, le posso dare delle cifre che sono tratte dal rapporto, eccolo qua, un attimo solo, il TESAT, che è il rapporto dell'Europol specializzato sulle questioni di terrorismo. Allora, è interessante notare che nel 2017 nei paesi dell'Unione europea ci sono stati 10 attentati portati a termine, 10 su una popolazione di 400 milioni, all'epoca c'era anche il Regno Unito. Nel 2018 sono stati 7, nel 2019 3. Gli attentati che sono falliti, quindi questo è per incompetenza, diciamo, dei terroristi, nel 2017 erano 12, nel 2018 erano 1, nel 2019 4. Ma quelli che sono stati prevenuti, cifre che interessa a tutti, è che i soliti politicuzzi, come dire, spargi angoscia, non citano mai, e che quelli fatti fallire in tutta l'Unione europea, e siamo ancora pre-Brexit, sono 11 nel 2017, 16 nel 2018 e 14 nel 2019. Quindi, antiterrorismo a terrorismo, 14 a 3. 14 prevenuti contro 3, purtroppo dove no, abbiamo incassato dalle perdite. Ma appunto facendo una... Il terrorismo, quello che viene chiamato mediaticamente, in modo un po' islamista, islamico. Professor, questi sono dati importanti perché... E sono pubblici, non sono segreti. Ma allora a maggior ragione, cioè, è fondamentale ribadire il concetto per cui comunque sono attentati sporadici da un lato e poi comunque vengono effettivamente prevenuti. Cioè, le istituzioni europee stanno lavorando bene. Sì, ma le istituzioni, diciamo, le varie polizie nazionali. Esatto. E per quello che può fare il coordinamento europeo si danno un sacco da fare. Ebbè... E quindi, diciamo, vabbè, la domanda è abbastanza... Lei ha già risposto, cioè, quindi, fondamentalmente, allora il rischio di attacchi terroristici in Europa, in particolare in Italia, allora paradossalmente, diciamo, sono limitati. Non sono... Al momento è dimostrato, in Italia, è proprio scientificamente dimostrato, come si vogliano contare, come dire, i casi positivi alla fontana e scientificamente, e soprattutto come non si possono stirare le cifre sui morti, inclusi quelli per complicanze multiple, è più facile morire di Covid che di terroristi. Non di un attacco terroristico. Ci ho detto, sempre a beneficio di certa stampa che, no, fa purtroppo una cosa che io trovo disgustosa, questo Totocovid, no? Le cifre sono sempre da rapportare alla popolazione locale totale, alla popolazione locale italiana. Cioè, quando parliamo di 40.000 casi, sono importanti perché c'è un tasso di contagio. Assolutamente. Di cui i positivi vanno accertati. Ma sono 40.000 su 60.800.000 persone. Cioè, e questa mancanza di contesto crea degli stati di angoscia che francamente gli italiani non si meritano. Anche perché gli italiani hanno reagito con grande disciplina all'emergenza. Molto più di tanti altri paesi cosiddetti, no? Disciplinati e virtuosi. Quindi, ci vuole appunto contesto tutto qua. Bisogna sapere analizzare e rapportare i dati. Questo sono perfettamente d'accordo perché, a secondo di come si leggono i dati, poi uno può dare un quadro della situazione in un modo oppure in un altro e quindi generare panico oppure realtà fondamentale. Le cifre non parlano da sole. Assolutamente mai. Questo professore veramente ha perfettamente ragione. Ma allora, tornando al discorso invece legato, come dice lei, all'atteggiamento dei politici che spesso magari utilizzano i dati in maniera non tanto contestualizzata o a volte poi, diciamo, si preferiscono prendere solo parti di certe situazioni e non altre. Come giudica le polemiche che i principali esponenti dell'opposizione in Italia hanno fatto in rapporto proprio all'immigrazione e al terrorismo? Perché ricordiamo, per esempio, uno degli attentatori di Nizza era sbarcato a Lampedusa e quindi molti hanno utilizzato questo per dire, avete visto, dice non chiudiamo i porti, però limitiamo gli italiani e intanto però il terrorista è passato. Sì, prego. La mia risposta senza parole è questa. Finora in 20 anni di oddio ci sommergono, arrivano i terroristi, uno? Uno. Beh. Abbastanza chiaro. Normalmente poi i terroristi non scelgono questa via. Perché? Ma perché è pericolosa. Perché uno deve rischiare di morire affogato dopo aver rischiato di morire di fame in Sahara per arrivare a fare l'attentato qua? Cioè, anche il suicida, l'aspirante suicida, beh, io lo devo tenere, come dire, in forza, lo devo tenere pronto all'azione, deve essere lucido quanto basta per vincere l'anturale ripugnanza a togliersi la vita. Non gli faccio fare un viaggio che diciamo già di perdere. Sono, come dire, cose assolutamente superficiali che non incidono purtroppo sulla realtà. Agli italiani fondamentalmente interessa la realtà. E finora la realtà italiana, dati alla mano, è assolutamente invidiabile rispetto ad altri paesi. Per fortuna che abbiamo un tasso di gente con armi private in proprio possesso bassissimo. Se no, avremmo cifre da Stati Uniti. Dove tanto del terrorismo non viene riportato, perché non fa clamore. Ma le statistiche del terrorismo interno statunitense, al di là dei fatti eclatanti adesso, dei nuovi terroristi, razzisti, bianchi, eccetera, eccetera. Ma c'è molto di più. Ci sono tutte statistiche correnti, nulla di segreto. Quindi abbiamo, grazie a Dio, un apparato legislativo molto sofisticato. Quindi buchi non ne abbiamo. Sì, naturalmente le leggi sul terrorismo vanno aggiornate. C'è un'iniziativa a suo tempo dell'onorevole Manciulli che è stata, come dire, insieme all'onorevole D'Ambroso, che insomma forse bisogna calibrare certi strumenti. Però, insomma, certamente siamo più avanti di tanti altri. Noi abbiamo il reato di associazione per delinquere. Ci hanno messo decenni gli anglosassoni a prendere il conspiracy. Due, abbiamo degli apparati di servizi segreti che hanno senz'altro incassato e hanno imparato, diciamo, una serie di lezioni e quindi hanno aumentato le loro capacità. Abbiamo degli apparati di polizia che, si vede anche all'estero, hanno una duttilità e una capacità operativa non banale. Per carità, qualcosa può sempre andare storto. Ma, ripeto, guardiamo quello che sta succedendo. Non dico che tutto va ben madama la madre. Non è vero. Ci sono anche i sacchi di miseria, di abbandono, di gente che non ce la fa, di gente furiosamente sfruttata. La pandemia ha messo in rilievo una parte della nostra economia che è dallo schiavistico al semischiavistico. Questo chiaramente o mette nelle braccia delle organizzazioni criminali, molto più attive, molto più in salute dei terroristi qua, almeno quelli temuti jihadisti, oppure mette nelle braccia qualche volta di movimenti terroristici. Peraltro, quello che, ancora una volta, le cifre europee mostrano è che c'è molta più attività di polizia concentrata, diciamo che si vede con degli arresti, sui terroristi di estrema destra, di estrema sinistra, o anarco-insurrezionalisti, come vengono chiamati nel gerco. Quindi, ripeto, la situazione non si può abbassare la guardia, però ogni volta gridare al lupo al lupo e chiedere leggi eccezionali è assolutamente fuori luogo, anche perché l'attività terroristica è un'attività politica. Allora, certi parametri politici li possiamo controllare, altri sono fuori dal nostro controllo, ma la nostra politica estera può fare in modo che delle situazioni si modifichino. è quello che è possibile fare. Quando ci si lamenta dei terroristi che ritornano, è un problema che finora ha una sua incidenza, peraltro, voglio dire, meno eclatante delle paure iniziali, ma è giusto, come dire, preoccuparsi in anticipo. Ma poi bisogna ricordarsi che molti di questi terroristi sono stati fatti passare per abbattere i regimi in Siria e in Libia. E che poi questi terroristi fanno parte di una strana economia circolare che va dalla Siria allo Yemen, alla Libia, insomma, questa gente non è un miracolo, capisco la fede, ma insomma, no, questi miracoli non accadono così. Quindi c'è qualcuno, evidentemente non delle reti familiari, che li piglia, li trasporta, li arma, li nutre e li fa girare. Questi signori però poi tornano a volte nelle rispettive patrie e li fanno danni. Certo. E però prima no, non era, come dire, problemi collaterali. E' un problema molto più radicato in realtà, è molto più... E' un problema molto radicato sì, perché questa roba è vecchia quanto la prima guerra in Afghanistan, quando noi li chiamavamo Freedom Fighters. e molti di loro hanno effettivamente combattuto per la libertà, però bisogna poi vedere quale e soprattutto come si sono trasformati, no, dieci anni dopo. Al-Qaeda è nata esattamente alla fine della guerra di liberazione dei sovietici. Molto... La storia aiuta sempre a contestualizzare, professore, quindi molti diciamo, forse se lo scordano e quindi diciamo è giusto contestualizzare, perché è fondamentale, perché uno perde poi, diciamo, quello che poi è l'evoluzione e si concentra sulla parte finale. Ma è quello che molti politici vogliono, perché così manipolano le opinioni pubbliche, no? Ma infatti, professore, mi aggancio alla sua frase, è bellissima, terrorismo è politica, ha detto. E come giudica il ruolo di Erdogan in questo contesto? Perché, soprattutto in merito agli attacchi a Nizza, diciamo, lui ha poi criticato, addirittura ha fatto causa, ha acquerelato Charlie Hebdo per la celebre vignetta che l'ha visto in ritratto. Sembrerebbe che da un lato lui possa essere una minaccia per l'Europa, però dall'altro lato in realtà sta facendo retorica, si dice, fa retorica piegata a ragioni di politica interna. Come la vede questa situazione lei? Beh, Erdogan è in una situazione molto difficile, quali che siano le apparenze. Ha investito un sacco per abbattere il governo degli Assad e ha fallito. si sta agitando molto in Libia e la partita è aperta. Vorrei ricordare che quando si trattava di abbattere la famiglia Assad a quello che succedeva al confino turco-siriano, non vedo, non sento, non c'ero, dormivo, sognavo. Una delle terroriste scappate proprio dagli attentati di quell'ondata intorno a Charlie Hebdo è sparita all'aeroporto di Istanbul. Siamo italiani, possiamo credere a Babbo Natale, ma queste cose no. Quindi, per molte cose, il governo guidato da Recep Tayyip Erdogan ha fatto il lavoro come dire, meno elegante che serviva per sostenere determinati interessi che erano tutti occidentali. Anche in Libia sta sostenendo un governo riconosciuto dall'ONU. Poi possiamo fare tutte le critiche che vogliamo, ma, insomma, no, questo bisogna vederlo. Allora, la sua economia è un mezzo disastro. Ha avuto perdite di consensi elettorali e quindi una serie di mosse servono a tenere calda la sua opinione pubblica. Peraltro, però, la questione dei vignetti islamici, e questo lo fece notare un brillante staffer analista che lavorava con il gruppo parlamentare della Lega all'epoca, la faccenda dei vignetti islamici non era una faccenda di opposizione al terrorismo, era una faccenda di collisione con una serie di governi arabi oppure di maggioranze di fede musulmane che hanno usato questa controversia per embargare la Danimarca. E saremmo stati embargati anche noi italiani se Berlusconi non avesse fiondato un sottosegretario dopo 15 minuti che aveva fatto la sua fesseria televisiva. Certo, e la Francia sta subendo un embargo commerciale che non è dichiarato dai governi perché poi questo ha un profilo troppo alto ma certo non è scoraggiato dai governi. Paradossalmente anche la Turchia sta subendo un embargo commerciale in molti paesi arabi un embargo informale perché è troppo interventista in Libia in Siria cioè il neo-ottomanesimo quello vero non quello dei volumi di Dautoglu insomma crea qualche malumore così comprensibile quindi la Turchia si trova in una situazione molto difficile naturalmente uno si attacca a quello che può e quindi ecco che c'è questo tipo di attriti e di scontri però la cosa più importante è sempre capire che le organizzazioni terroristiche sono rimaste sorprese all'inizio dalla polemica delle vignette islamiche non sapevano che pesci prendere il caso adesso di un ceceno che ha tagliato la gola un povero insegnante è un caso tragico ma insomma la cecena è un posto tragico purtroppo è stata pacificata in modo tombale però questo professore ha scatenato ora al di là del discorso mediatico però un sacco di manifestazioni protesto in tutto il mondo ma veramente tutti i musulmani sembrerebbero essere praticamente in rivolta fondamentalmente in rivolta no guarda io ho visto cose molto molto nette anche sotto casa mia insomma io abito in una zona più multietnica di Roma piazza Vittorio è un negoziante un pacifico negoziante bangladesci mi ha detto ma insomma Macron cosa fa è una brutta cosa me l'ho detto in modo educato ma insomma mi ha detto che dissentiva in modo fermo da questo tipo di affermazioni e insomma contare fino a 10 prima di twittare o di parlare no? no ma questo questo è il problema delle politiche che si basano su una iper velocità comunicativa ha ragione e questo porta delle cose poi per carità i tempi vanno avanti però è chiaro che purtroppo le dichiarazioni presenti francesi che nulla hanno a che fare con la laicità che è un'altra cosa e hanno creato una perdita di punti nelle opinioni pubbliche di una serie di paesi di fede musulmana stranamente un capo di stato come Bergoglio queste cose non le fa è un capo religioso va benissimo ma è anche un capo di stato assolutamente e twitta pure lui ma in realtà non twitta lui fa twittare gli altri e quindi si concentra sulle cose serie ecco questo è questo è purtroppo uno dei paradossi della politica attuale l'informazione il modo come viene manipolato è sempre poi va molto veloce quindi come ha detto lei e questo poi porta a difficoltà nel controllo anche delle situazioni esattamente professore le devo fare le ultime due domande che diciamo la riguardano più da vicino perché essendo lei direttore della Nato Defense College allora io foundation Nato Defense College foundation e io le devo chiedere come vedi il rapporto tra la Turchia e la Nato dato tutto quello che sta succedendo diciamo sul fronte mediterraneo orientale diciamo basta citarne alcuni il conflitto appunto in Armenia Azerbaijan Libia e dato anche il comportamento aggressivo che comunque sta dimostrando Erdogan secondo lei è compatibile la Turchia con l'appartenenza alla Nato? se dobbiamo fare dei pedigree abbiamo dei grossi problemi nel senso che la Nato ha avuto membri come il dittatore Salazar come il dittatore Franco come i colonnelli greci come i generali turchi quelli laici di una volta come altri governanti la cui politica a livello europeo dove si può parlare più francamente di queste cose suscita qualche dubbio che ne so in Europa orientale quindi la Nato si occupa chiaramente in modo politico ma di questioni di difesa comune è chiaro che l'attrito crescente che c'è stato e forse adesso sia un attimo calmato tra Grecia e Turchia è una cosa che preoccupa moltissimo e la Nato in questo senso sta intervenendo perché c'è una serie di azioni nazionali perché la Nato se non si muovono le nazioni non può fare granché il segretario generale è al servizio del Consiglio Atlantico non viceversa non è il capo di niente è il servitore del Comitato del Consiglio del Nord Atlantico allora sulla base di azioni nazionali si sta cercando un'azione di mediazione e questa è una cosa che è perfettamente comprensibile poi altri attriti sono bilaterali tipica la questione degli S-400 i missili da difesa aerei russi con gli F-35 i caccia avanzatissimi statunitensi e altre cose sono come dire fuori dai confini diciamo diretti di quello che si è data alla Nato col Trattato Nord Atlantico ma naturalmente sono di interesse quindi quando ci sono i commenti mamma li turchi calma perché questo è un nostro alleato e se qualcuno vuole buttare fuori i turchi capisco la sua posizione così dal punto di vista di ognuno la pensa come si sveglia che in politica non funziona così ma poi siamo sicuri che vogliamo buttare i turchi nelle braccia che ne so dei cinesi dei russi è una domanda che non è priva di buonsenso ecco no assolutamente questa è una cosa su cui molti capisco presi come dire da passioni politiche ecco a volte non riflettono la sufficienza è una cosa complicata la politica non è una cosa così ovvia e richiede molta professionalità già i professionisti sono capaci di fare grossi errori grossissimi figuriamoci quando si è così in balia delle proprie passioni funziona meno bene grazie professore ma a questo punto le chiedo per concludere come vede l'impatto che possono avere le elezioni che si stanno svolgendo in America adesso sulla Nato sembrerebbe che Joe Biden sia in leggero vantaggio oggi scopriremo chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America senta io avevo previsto e non eravamo in tanti ma insomma un gruppo ancora da definire che sarebbero state combattutissime queste elezioni come del resto furono combattute le precedenti come del resto si svolsero sul filo del rasoio le elezioni tra George Walker Bush e Al Gore quindi non è proprio la prima volta uno potrebbe dire ah finalmente adesso Biden arriva super Biden sistema tutto beh è chiaro che insomma l'attuale presidente ha fatto un percorso molto faticoso per capire cos'è la Nato alla fine vabbè insomma almeno ha smesso proprio di picchiarla regolarmente si è concentrato sulla faccenda dei soldi quanto date quanto contribuite anche il 2% è un criterio fittizio ma insomma in politica si fanno tante cose Biden è senz'altro come dire un altro tipo di politico ma se c'è una cosa che si può già capire adesso è un uomo di estrema determinazione chiunque pensi sia un vecchietto così un po' assonnato ecco io mi ricordo più i vecchietti di Red che sembrano come dire dei simpatici pensionati e poi possono picchiare molto duro quindi Biden è un presidente da non sottovalutare è chiaro adesso tutto all'inizio bisogna vedere se lo sarà e comunque non lo prenderei sotto gamba perché non è consigliabile quanto ai rapporti con la Nato saranno improntati senz'altro se Biden sarà presidente ha un maggiore uso della professionalità del Dipartimento di Stato pensi che di questi tempi il 30% delle nomine politiche al Dipartimento di Stato non sono mai state fatte la macchina era priva di un pezzo dell'ossatura si deve ripartire di là questo questo crea qualche problema ecco questo crea qualche problema oggettivo quindi penso se come dire poi vedremo quali sono le priorità molte cose forse sono molto più persistenti di quanto l'alternanza di vari presidenti di avvedere ecco un esercizio utile che si potrebbe fare è vedere quanta continuità c'è stata veramente tra Obama e Trump tra Obama e Bush e poi immaginare che cosa veramente è persistente ai tempi di Biden un governo serio dovrebbe fare questo tipo di azioni di consulenze questa roba qua perché come dicono i francesi governaise prevoir governare significa prevedere virgola noi cattolicamente diremo provvedere anche provvedere anche va bene professore io la ringrazio moltissimo per tutte queste delucidazioni è stata una piacevolissima chiacchierata e grazie per averci delucidato su tanti aspetti che molti sottovalutano grazie ancora grazie a voi e buona serata grazie a tutti